è finalmente arrivata la nuova ferrari la settantesima costruita per un mondiale di formula 1 dalla casa di maranello la speranza è che sia veloce tanto quanto è stata veloce la presentazione perché citando margine mai visto questo non avevo mai visto una ferrari svelata in un minuto e 50 secondi il tempo di un breve video poi anche contenuti caricati sul sito però una presentazione assolutamente minima il video molto bello appariscente una presentazione minimal per come ci aveva abituato la ferrari questa può essere la chiave di lettura di quello che è la nuova ferrari di frederick wasser ossia lasciare parlare la pista e fatti concretezza voglia di primeggiare e di farlo però laddove bisogna farlo quindi non con le chiacchiere ma sull'asfalto per farlo serve una macchina molto competitiva ovviamente considerando quanto è forte la red bull quanto è cresciuta la mclaren quanto immaginiamo non starà a dormire la mercedes quanto l'aston martin ha presentato una macchina molto estrema poi vedremo se i numeri di questa macchina saranno confermati dalla pista comunque una sf 24 che all'apparenza dice sì cambiato un po qui cambiato un po la muso un po più corto scivolo che scivola un po di più cambiamenti visibili ce ne sono chi si aspettava delle forme red bull è stato ovviamente deluso chi si aspettava una scelta di sospensioni direzione red bull è stato deluso anzi la ferrari conferma la soluzione di sospensioni al contrario rispetto alla red bull con la push road all'anteriore pull road al posteriore solo ferrari haas hanno la soluzione di pull road al posteriore poi sentendo chi se ne intende insomma viene detto che sia una soluzione che l'altra hanno i loro vantaggi altrimenti non verrebbero ovviamente utilizzate entrambe da tutti i team è una questione anche di messa a punto di utilizzo e di far funzionare poi tutto l'insieme di una macchina se tu magari hai una soluzione poi non si integra bene con il resto della macchina o viceversa sulle pance crediamo che in corsa d'opera vedremo un mutamento di pelle molto importante da quello che sappiamo c'è in programma un grande pacchetto di sviluppo dopo le prime cinque gare quindi dopo le tre trasferte le due in medio oriente e le tre in oriente con australia cina e giappone e però questo non vuol dire mettere le mani avanti qualcuno si sbilancia ferrari farà quattro cinque vittorie la ferrari intanto è andata in pista per lo shakedown andrà in pista per il filming day quindi questi 200 chilometri non è un test ma insomma è un po come nascondersi dietro il dito e dire non mi hai visto nel frattempo la red bull è andata in pista per il filming day proponendo in immagine un po un po distorte delle soluzioni forse estreme forse più estreme anche con delle copiature questo sembrerà strano della mercedes quando andrà a new e va in giro per la pitlane a guardare tutte le macchine perché comunque va a cercare di cogliere quanto di interessante c'è e quanto di interessante può essere su una red bull già estremamente interessante la ferrari dicevo è inutile sbilanciarsi invece 4 5 perché poi allora uno dice allora perché non ne vince 10 ma l'importante è che sia una macchina vicino alla concorrenza possibilmente davanti ma già di partenza consideriamo dalla stagione da quale arriviamo sarebbe importante che fosse vicino in modo tale che poi possa essere con gli sviluppi aggressiva e andare a prendere e chiudere il gap magari con gli avversari principali o l'avversario principale che si chiama red bull tutto ciò alla luce dei risultati dell'anno scorso pare fantascienza pare chiudere in un solo anno anzi in pochi mesi il gap esistente con la red bull sia fantascienza ma c'è dell'ottimismo hanno lavorato molto per far sì che la macchina abbia una guidabilità migliore anche confermato da charles claire ossia non sia imprevedibile come lo era l'anno scorso ricorderete a miami leclerc l'ha messa nel muro senza preavviso la macchina cambiato traiettoria senza preavviso lo stesso snappa come si dice in gergo lo ha avuto verstappen nello stesso punto la macchina si è quietata quasi come se avesse i controlli elettronici per farla rimetterla nelle mani del pilota ecco questo l'obiettivo è che la macchina sia nelle mani dei piloti in modo che i piloti possano spingere realmente al 150 per cento senza paura di avere reazioni imprevviste di avere un cavallino imbizzarrito ma avere un cavallino docile da qui poi il cavallino docile deve essere veloce sulla velocità abbiamo degli elementi di certezza la power unit la power unit dati alla mano per chi li conosce è la più potente in formula 1 più potente ma sappiamo quanto è importante l'erogazione la guidabilità del motore l'intervento della parte elettrica l'utilizzo del turbo in tutto questo però in casa ferrari sono convinti che la power unit sia la migliore dell'otto la macchina la macchina che problema aveva l'anno scorso l'anno scorso è arrivata a fare praticamente la metà delle pole delle ultime gare che vuol dire macchina veloce e nelle ultime gare seppur non tutte su circuiti veritieri ha dimostrato anche di saper a tratti gestire il grosso problema dei ferrari ossia le gomme lo stesso basso era detto abbiamo lavorato per eliminare i punti deboli una macchina già veloce andata in evoluzione lenta però per la gestione delle gomme se effettivamente andata a risolvere questo tipo di problema può a questo punto diventare veloce guidabile guidabilità velocità e ovviamente affidabilità messi insieme questi tre elementi cosa succederà lo scopriremo solo dai test lo stesso basso era detto è inutile montarci la testa o demoralizzarci alle prime gare perché una stagione di 24 gare sarà importante ovviamente tutto quello che farai nel corso della stagione l'importante però è che non parti a sette decimi otto decimi dalla concorrenza con un ritmo esageratamente troppo lento rispetto alla concorrenza se parti in zona della concorrenza e dimostri che effettivamente questi punti deboli sono stati non dico eliminati ma sono stati migliorati allora sì che la ferrari può mettersi in gioco per qualcosa di importante oggi dire che la ferrari è in corso del primo mondiale è un'assurdità dopo i test l'ha detto anche l'eclare l'anno scorso i test abbiamo capito subito che non non c'era la macchina che usavamo al simulatore che c'erano dei problemi dopo i test avremo un primo quadro per avere è chiaro che il bahrain la prima gara del bahrain l'anno scorso ci ha dato un quadro definitivo si è capito subito l'ha detto russell che la red bull avrebbe vinte tutte quindi il bahrain prima gara il test primo passaggio bahrain prima gara per vedere il gap o per vedere dove sei posizionato visto dove sei posizionato se non sei ad anni luce come l'anno scorso è chiaro che può essere una stagione tutta da costruire gara per gara sviluppo su sviluppo passaggio ha detto che la macchina è stata cambiata al 99 per cento visibilmente questo 99 per cento non c'è però ricordiamo che il problema di gestione gomme è molto legato a cosa c'è sotto cosa c'è sotto il fondo dove vanno i canali venturi come sono posizionati dove vanno i flussi la meccanica che non si vede si vede a livello di triangoli e sembra che lì abbiano fatto un gran bel lavoro soprattutto nella parte posteriore quindi quel 99 per cento è un dato molto interessante di che hai fatto la macchina nuova ecco chi si aspettava nella macchina nuova di vedere una red bull bis rimane deluso non chi conosce vassur perché vassur l'ha dichiarato subito lo scorso anno è inutile che noi copiamo la red bull perché quando copi comunque arrivi secondo quindi ferrari ha mantenuto dei suoi concetti di base di filosofia ha lavorato su certi concetti red bull come ad esempio i vassoi le prese d'aria anche se restano abbastanza grandi interessante le prese a livello del dell'alo e su le parti meccaniche per far sì che quei punti deboli della passata stagione possano diventare dei punti di forza tutto questo cosa vuol dire niente perché dobbiamo aspettare i test che vi ricordo saranno 21 22 23 di febbraio in diretta integrale su sky sport su nao e solo la mattina noi saremo in onda dalla mattina alla sera solo la mattina anche su youtube e su tic toc tic toc quindi parola i test parola la pista che è la parola d'ordine quest'anno di vassur far parlare la pista poche parole profilo basso come diceva anche maurizio arriva bene testa bassa e lavorare ottimismo sì ma non denunciato come l'anno scorso a 32 denti sorridenti facce arrabbiate facce di chi sa che gli altri sono più forti e che solo con il lavoro possono arrivare a eguagliarli avvicinarli a batterli questo ripeto ce lo dirà la pista